L'autismo è ancora oggi una malattia nei quali non conosciamo la causa, l'eziologia. Dobbiamo fare in modo che la ricerca, lo studio, possa approfondire le cose scatenanti di questa grave malattia che colpisce migliaia di persone. Io credo che sia un'occasione importante capire e conoscere il lavoro che anche l'Istituto di Ortofonologia, attraverso il suo XVII Congresso, riesce a dimostrare e a presentare le proprie metodiche e le proprie modalità di approccio terapeutico. Un'occasione quindi per approfondire questa materia e soprattutto dare qualche segnale di speranza alle tante famiglie dove hanno presenza di un caro affetto da questa grave malattia.